Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Lori Frost e oggi siamo su Asphalt 8 Airborne. Ragazzi in questo video andremo a fare delle gare di corsa in multigiocatore, come vedete già dalla schermata è un gioco di macchina, penso lo conoscete già, e andiamo a sfidare tutto il mondo, vedremo se siamo più bravi noi o loro. Questa è la mia macchina, ci colleghiamo alla stanza per scegliere le gare tutte e aspettiamo che esca nel giocatore. Ok, io scelgo una gara classica, ok ci sono, io ho già scelto, classica, porto di San Diego e due giri, invece è classica, rosa nel deserto, due giri ok, ok come ho scelto io, perfetto. Se già lo facciamo faremo due gare ok, perché durano molto abbastanza, due giri durano tipo cinque minuti dieci. Sto caricando. Ok, eccoci, ci sono già partiti, mi hanno già fatto fare un incidente. Ok, ci siamo buttati un pallo in faccia però, dettaglio. Ok, eccoci, ci sono già partiti, mi hanno già fatto fare un incidente. qui. Ok, eccoci, ci sono già posti, dobbiamo andare di qua. Ok, eccoci, ci sono già partiti, mi hanno già fatto fare un incidente. dai madonna è difficilissimo sta caro intanto aerei che volano a caso ok siamo al giro 2 ok abbiamo raggiunto il taso era molto lontano ce l'abbiamo fatto ok ce l'abbiamo di fianco praticamente facciamo un avvitamento dai che lo raggiungiamo non ce l'abbiamo fatta quarti abbiamo finito peccato andiamo alla prossima gara ok io direi che bello anche il settore 8 un giro ok opposto vediamo ok classica laboratorio segreto un giro perfetto speriamo di regolare almeno terzo siamo in molti in stagarsi ma almeno sei se non mi sbaglio grazie 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 scusate ragazzi ho avuto un problema a ripartire a far ripartire il video dalla partenza però siamo siamo corti siamo attaccati agli altri ragazzi non celebration Grazie. Ah, gli siamo caduti addosso. Questa sì che è una gara. Secondi, mamma mia. E finiamo in seconda posizione. Ok, ragazzi. Aspettiamo un attimo. Ragazzi, direi che il video può finire qui. Lasciate tanti like e commentate per nuovi episodi. Iscrivetevi al mio canale e direi che ci vediamo al prossimo video. Bella raga. Grazie. 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 Grazie.